Innanzitutto devo dire che io all'inizio dell'anno, io parlo spesso con una radio, io dissi, me lo sono andato a riprendere, io dissi praticamente che secondo me la Juventus ha il netto però del fatto che oggi come oggi in classifica mancano la prima e la seconda dell'anno scorso. Cioè Napoli e Lazio sono scomparse. L'anno scorso il Napoli è arrivato primo e la Lazio seconda. Quest'anno Napoli e Lazio non ci sono quasi nemmeno per la lotta Champions, non per la lotta Scudetto, nemmeno per la lotta Champions. Quindi al netto di questo io dissi all'inizio dell'anno, secondo me se la Juventus quest'anno dovesse arrivare quarta, vista la campagna acquisti, quindi visti gli unici due giocatori che sono entrati rispetto alla Juventus dell'anno scorso, è come vincere una Champions. Lo dissi all'epoca e secondo me per l'organico ribadisco al netto del fatto che però Napoli e Lazio e persino la Roma sono un po' scomparse dall'orizzonte delle squadre che potevano rientrare nel novero di quelle che entrano tra Champions e lotta Scudetto. Io il Napoli avevo messo comunque sia anche il Napoli in quelle squadre che potevano lottare per vincere il titolo. E quindi vuol dire che ho sempre valutato l'organico della Juventus inferiore a quello dell'Inter, secondo me anche inferiore a quello del Milan. Sì sì, anche del Napoli. E a mio avviso probabilmente anche a quello del Napoli che però non so cosa è successo a Napoli. E Massimo, scusa se ti interrompo, avevi dentro ancora i due squalificati, Fagioli e Pogba. Esatto, bravo, arrivo, arrivo. Poi vengono a mancare anche Fagioli e Pogba che comunque potevano essere un aiuto anche dal punto di vista numerico. Certo, sicuro. Però qui subentrano due fattori. Il primo secondo me è dove Allegri in questi ultimi 20 giorni ha delle serie responsabilità di scelte tecniche e non tecniche di inerzie psicologiche. Io ho sempre pensato tra Allegri e Inzaghi, chi è più abituato a stare lì è Allegri, chi è meno abituato è Inzaghi. Invece in quest'ultimo periodo Inzaghi ha fatto la differenza nell'Inter e Allegri ha fatto la differenza al contrario. Cioè ha fatto la differenza in negativo, purtroppo per la Juventus e purtroppo per i tifosi della Juventus. Nel momento, non dico topico della stagione, però in un momento in cui potevi mettere pressione, poi la pressione è una cosa, l'arrivare a vincere è un'altra, perché secondo me l'Inter è troppo più forte rispetto alla Juventus, è troppo più forte come organico, ha giocatori secondo me di grandissima esperienza, personalità, che alla Juve mancano. Ma dico anche una cosa sulla proprietà. Allora io dico, Pogba e Fagioli sono due giocatori che ti sono mancati. Sei a un punto due dall'Inter, quindi potenzialmente puoi mettergli pressione. Tu vai a prendere Alcarazza all'ultimo giorno di mercato? Non ti spingi oltre un giocatore che comunque, non so, mi sembra a occhio, mi devo fidare dell'allenatore che lo vede tutti i giorni e comunque lo prende all'ultimo giorno di mercato, 4 milioni il prestito e 50 al riscatto? Non vai a prendere un giocatore di esperienza il 4 di gennaio, no il 31. Scusami Massimo, ma c'è un risultato che cambia ed è l'Udinese che va in vantaggio contro il Cagliari, grandissimo gol di Zemmura. Guardate che bello questo tiro sotto l'incrocio, veramente molto molto bello. Un po' come Folo Ruscio, un po' come Folo Ruscio. Eh sì, è un tiro imparabile letteralmente. Quindi Massimo, dicevi responsabilità anche della società nel mercato. La proprietà penso, perché io non posso pensare che Giuntoli anche lui si sia imbrocchito e sia andato a scovare un giocatore pensando di rinforzare questa squadra con un giocatore di 22-21 anni, adesso non so quanti ne ha di preciso, che arriva dalla serie B inglese. È vero che anche Anguissa arrivava da una squadra inglese di basso profilo, però è anche vero che a mio avviso in quel momento una mano all'allenatore e qui secondo me si sono un po' nascosti dietro il fatto che non vogliamo rovinare l'equilibrio dello spogliatoio. Ma l'equilibrio dello spogliatoio se ce l'hai in mano non lo rovini con l'ingresso di un giocatore di esperienza, di personalità, che poteva pure essere l'ex capitano del Liverpool che giocava in Arabia e che poi ha deciso di andare a Laia. Io credo che anche lì la società o barra proprietà non siano stati molto in linea a mio avviso con un eventuale aiuto all'allenatore stesso che però negli ultimi 20 giorni secondo me ha fatto degli errori marchiani che da uno dell'esperienza sua, insomma uno probabilmente non si aspettava. Scusami, fammi finire solo una cosa. Se noi parliamo però del bel gioco e del brutto gioco, ma ragazzi questo ha vinto e io lo criticavo, se tu ti ricordi Federico, tantissimo, nel momento in cui vinceva i cinque scudetti e arrivava due volte in finale di Champions League io ho sempre detto per me questa Juventus vince perché ha dei grandi giocatori, vince perché ci sono quattro fenomeni dietro che sono Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini e c'è un centrocampo straordinario che se prima era composto da Vidal, Marchisio, Pogba e Pirlo dopo sono arrivati Pianic, Chedira, Matuidi eccetera eccetera. Quindi lui vinceva perché aveva una grandissima squadra. Perché Manzuchic, Di Bale, Guain e Quadrado. Sì esatto, Quadrado certo, nella seconda Juve di Allegri sì, infatti ho sempre detto grazie che vince. e le altre invece erano distaccate tantissimo a livello di organico. Sì, c'è stato solo il Napoli di Sarri che ha fatto un po' di opposizione. E non oso dire che squadra aveva il Milan Allegri. Non li voglio neanche citare. Per questo io dicevo prima, mi collego alla seconda parte di quello che diceva Massimo, cioè gli ultimi venti giorni. La Juventus ci sono anche quegli anni in cui le cose ti possono andare un po' bene. E' tre anni che va male. No, ma per questo sto dicendo, siccome l'anno scorso, qual è stato il motivo per cui la Juve ha tenuto il primo motivo? Motivo economico, ragazzi. Si riorganizza, arriva un nuovo dirigente, dice non possiamo fare scossoni, c'è un settlement agreement, quindi vediamo questo primo anno come va. E si è parlato molto nella prima parte, adesso se ne parla meno, vi ricordate Magnanelli, le interviste di Chiesa? Magnanelli è sparito. Ma che Chiesa che diceva dobbiamo giocare oggi calcio europeo, le grandi squadre devono giocare più all'attacco? Le battute di Chiesa, mi ricordo. Le battute di Chiesa. Però voglio dire, la Juventus ha preso consapevolezza dai risultati, più che da questo tipo di calcio nuovo propositivo. Ma anche dalla voglia. Dalla voglia, perché dietro prendevi pochi gol e davanti in qualche modo il gol arrivava. Hai riuscito ad essere consapevole dei tuoi mezzi, dire noi ce la facciamo. Sì, però Marcello, intanto, secondo me, non è cresciuto un po' per le caratteristiche del centrocampo, che sono tutte di strappo, di allungo e non di palleggio. Però oggi si sta parlando di una Juventus che ieri nel secondo tempo forse può cambiare, si parla di resettare per giocare a un 4-3-3 o 4-2-3-1 perché Chiesa è meglio largo. Ma siamo a febbraio, scusami, fammi finire il concetto Gianni. Cioè la Juventus oggi non ha un'identità precisa. Tu la prossima partita riparti da cosa? 3-5-2. Ma non credo, non credo, perché Ildiz è esploso. Ma è esploso, ma ormai era un giocatore... Ma anche ieri ha fatto il tridente. Ma la polvere si è bagnata anche di Ildiz. Però dico, allora, un dirigente, come Giuntoli, l'anno prossimo deve programmare, no? E sa che non potrà prendere Iguain, Dybala, Mandzukic e Quadrado, no? Quindi deve programmare una crescita anche ormai di gioco. No, ma deve prendere due centrocampisti. Sì, Massimo, dimmi. Io so, allora, da questo punto di vista, so che la Juventus ha un nuovo piano industriale attaccato naturalmente a Exo. Quindi, a parte l'aumento di capitale, so che il piano industriale sposerà un piano, tra virgolette, tecnico per quanto riguarda la squadra, e ci saranno fatti almeno due acquisti, e si ripartirà con un nuovo corso. La persona che mi ha parlato è una persona molto vicina all'ambiente Juve. Il nuovo corso, insomma, parrebbe sia... Parrebbe, attenzione, perché qua poi io dico una cosa e dicono, ah, ma aveva detto questo. Nel calcio uno dice una cosa che viene a sapere per le intenzioni. Poi dopo il corso delle cose magari cambia. Però parrebbe che sia con fuori Allegri. Questo è dato dal fatto che ad oggi Allegri non si è ancora mai seduto con Giuntoli, perché sappiamo benissimo che, insomma, tenere un allenatore a scadenza di contratto, cioè vale a dire, finisce quest'anno e c'è ancora un anno di contratto, non è un grande segnale per nessuno. Ma poi Massimo stanno trattando, poi non so se li prendono tutti, ma stanno trattando tanti esterni. Cioè se tu vuoi fare... Io so che... Felipe Anders, io so che stanno... Kupmeier lo stanno trattando e poi, è inutile nasconderlo, è stato avvicinato Tiago Motta, da Giuntoli. Ma per questo gli esterni io dico. Questo avvicinato significa... Poi si parla di una cessione di Chiesa, ma poi ricordiamoci anche questo, che prima di cedere un giocatore, se hai nella testa di cambiare l'allenatore, devi prima l'allenatore. Certo, certo. È logico. Perché l'allenatore passa attraverso, diciamo così, il plasset, il benestare di un allenatore che ti dice, no, Chiesa, non lo mandare via, perché io nella Juve che ho in testa io, Chiesa mi serve. Grazie a Gianni Solaroli, che voleva intervenire sul tema Juventus, Gianni. Detto che tutte queste critiche che abbiamo fatto, che sono assolutamente tutte legittime al gioco di Allegri, soprattutto al fatto che non sia la rosa sicuramente una delle tre, quattro rose più forti del campionato. Poi guardiamo la classifica e scopriamo che c'è una Juventus dietro a un Inder che sta facendo un campionato straordinario e ha una seconda posizione che sicuramente è una roba che è ancora oggi... Non è l'ultimo mese due punti. Ah, pur avendo fatto due punti in quattro partite è ancora là, quindi vuol dire che... Ma il Milan arriva da un recupero straordinario. No, no, ma al di là del Milan tu guarda la posizione della Juventus a sette, otto punti. Sto facendo... Cioè, li ha recuperati tutti quasi. Sì, sì, certo, ma il Milan te li ha recuperati. Però tu, pur essendo in una fase super calante, perché hai fatto solo due punti in quattro partite... Perché è iperperformato. Tu hai iperperformato, sei andato oltre le tue stesse possibilità. Ma per oggi sei là. Cioè, ce l'ha, lo zoccolo ce l'hai. Per cui, se esci appena appena da questa crisi, a fine di questo campionato, poi cosa si chiedeva a Allegri? Che non ha le coppe, non ha tutte, di arrivare in Champions. Ma il problema è il prossimo, non è questo. È poco, ma però qual è l'obiettivo? Coppa Italia e Champions. Ma anche Marcello Chirico, se gli dai la Juve, riesce a portare in cinque posti. Sono anni di transizioni. Quando hai delle specie di fenomeni come questi qua alla mia sinistra, come, ripeto, va sempre tutto bene, la squadra è forte, gioca bene e porta a casa di risultato bene. Gianni, tu in Milan dici io devo risolvere il discorso infortunati, i difensori devono tornare, devo prendere un interditore. La Juventus, sul piano, diciamo, dell'evoluzione del gioco per vincere lo Scudetto, se non è adesso, è la prossima volta. La prossima volta tu ti affideresti alla continuità di quello che stai vedendo? Ed è persino peggiorato in chiave difensiva. Eppure peggiorato in chiave difensiva. Perché comunque... No, ma a parte quello, Scusa, ma tutte le critiche che noi abbiamo fatto le condivido tutte mille per mille. Sì, però, appunto, la difesa era la parte forte. Guardo, poi la classifica... Cioè, sette gol da fuori aria, sono tanti, eh. Sette gol da fuori aria. Sì, sì, ma sette da fuori aria. Con una difesa che gioca a basso. Il rendimento difensivo è peggiorato, ma la classifica hai ragione, è vero. È sorprendente, per me è sorprendente. L'ultimo periodo ti fa pensare che se non metti a posto subito le cose... Già sei imploso, puoi ancora precipitare. Però, ripeto, il paracaduto è il quinto posto. Cioè, se in Champions entrono le prime cinque, tu sei a posto. Vi faccio ascoltare quest'altro passaggio di Allegri che spiega che durante la partita ha avuto la sensazione di poter prendere gol da un momento all'altro. E questo, insomma, va in controtendenza con l'inizio del campionato della Juve. Come diceva Marianna Allegri. La squadra stava anche in equilibrio e la sensazione è che potevamo prendere gol da un momento all'altro perché una volta che ripartivano è il campo aperto e quindi ho dovuto cercare un equilibrio per cercare la vittoria. Per quanto riguarda l'atteggiamento, non è questione di atteggiamento. La squadra ha corso molto oggi, però è normale che abbiamo corso in maniera un pochino disordinata, abbiamo allungato molto la partita e su questo bisogna ritornare a lavorare come abbiamo fatto per i primi cinque mesi. Se non vinciamo, se non abbiamo vinto, devo dire che qualcosa ci manca. E secondo me, e credo anche secondo i ragazzi, manca quel coccino in più quando dobbiamo lavorare senza palla. Perché comunque in questo momento diamo sempre la, soprattutto oggi, rispetto a quello che è stato l'Udinese, la sensazione oggi di poter prendere gol. Almeno la mia sensazione della patina è quella che già nel primo tempo due o tre volte sui partiti poi hanno sbagliato sul tuo passaggio. Poi lo potevamo fare, quindi se non fai quattro gol, dopo è difficile. portare a casa la vittoria se dà questa sensazione. Quindi bisogna prendersi la quattro settimane lavoreremo per tornare a fare questo. Lavoreremo per tornare a fare questo, però perché la squadra... Ma perché non ci ha lavorato già dopo l'Empoli? Cioè non lo so. Perché adesso lo dice, no? Già dopo l'Empoli avevo capito. Però se andiamo nello specifico, scusa Federico. Sì. Se andiamo nello specifico, però, tanti errori li ha fatti anche lui. Nel senso, a mio avviso, Empoli è stato... Ribadisco, al netto che secondo me, anche se fai nove punti in queste tre partite, io continuo a risottolineare, lo scudetto va all'Inter in ogni caso. Però sicuramente distanzi la quinta e quindi ti metti al sicuro da eventuali sorprese. Ma la verità è che secondo me parecchi errori li ha fatti anche lui, non solo quelli che possono essere andati tra virgolette male come, diciamo, colpi di sfortuna, chiamiamoli così, nel senso che tu dopo Lecce, invece di ripresentare Ildiz, ti inventi Milik e ti va male, perché alla verità, alla fine è questa, che mai nessuno si poteva immaginare che proprio Milik si sarebbe fatto buttare fuori dopo 18 minuti e che tu non vinci con l'Empoli, con Milik in campo. Massimo, siamo onesti. Scusami Massimo, ma quando parli tu arrivano i gol, arriva quello della Fiorentina che sblocca la partita a Empoli, il gol è di Beltran e quindi Fiorentina in vantaggio, Fiorentina in vantaggio a Empoli, vediamo la classifica come cambia, in questo momento la Fiorentina torna a 40 punti, che vuol dire essere la prima, no, delle inseguitrici di questo duo, Atalanta-Bologna, ovviamente in attesa della Roma, che gioca alle 18 a Frosinone. Massimo, stavi dicendo gli errori di Allegri, no? Io credo che un altro errore sia stato quello di non pensare che Rugani, per esempio, perché queste sono delle piccole situazioni di spogliatoio barra campo che vanno sottolineate, nel senso che Rugani è stato il giocatore che ha sostituito Danilo per due mesi, forse anche di più, ed è stato il protagonista di una Juventus che inanellava successi e clean sheet uno dopo l'altro, ed è stato uno dei protagonisti di quella Juventus, perché ha giocato titolare tutte quelle partite. Nel momento in cui decidi maldestramente di lasciare a riposo, ribadisco, Ristotterino, maldestramente di lasciare a riposo perché è sotto di fida, e lì hai cominciato a non fare più l'Allegri, perché l'Allegri è sempre stato quello che dice io penso alla partita di oggi, non a quella di fra una settimana, invece lì hai già pensato a una partita fra una settimana, dando un segnale sbagliato a tutto il gruppo. Hai fatto giocare Alexandro invece che Rugani, per poi non metterlo nemmeno sull'1-0 in 10 contro 11. Guarda che da lì si è cominciata in anellare una sequenza di situazioni, di inerzie psicologiche negative all'interno del gruppo e dello spogliatoio, è che un allenatore della sua esperienza non doveva. Per me Allegri ha fatto dei clamorosi errori da quel punto di vista, che poi gli sia andato a male anche qualcosa, va bene, ma io la metto proprio più come errore che come sfortuna. E poi comunque ribadisco, risottolineo, ma non possiamo star qui a pensare al gioco bello o brutto. Il gioco di Allegri è sempre stato questo, perché fino a 20 giorni fa e qui c'era gente che diceva, non qui voi, sto dicendo tutti, dicevano Allegri comunque nonostante il gioco è lì, bisogna stare zitti, eccetera, eccetera. Poi Allegri logicamente siccome non ha un bel gioco, quando perde è facilmente attaccabile e criticabile. Eh, Marcello, sei d'accordo? Ha fatto degli errori proprio lui nello specifico, nella gestione delle... A cominciare dalla parità che ricordava Massimo, con l'Empoli. Cioè tu quella partita a un certo punto la stai vincendo nonostante le difficoltà. Sì. Perché sei passato in vantaggio. In dieci. In dieci. A maggior ragione tu quando sei passato in vantaggio devi cambiare, devi cambiare gli uomini perché gli uomini sono stanchi, perché nonostante tu hai di fronte l'Empoli comunque ti ha messo in difficoltà, ti ha fatto sprecare molta energia, allora tu avevi cinque cambi, non togli solo Miretti, che era comunque un cambio giusto, tu devi risistemarti anche in difesa, mettere dentro Rugani, piazzarti davanti all'area, vedi che l'Empoli con Baldanzi non segnava sicuramente, ti portavi a casa il risultato e con la testa non andavi fuori, ti presentavi da loro con un altro spirito. Anzi, avresti vinto in dieci, quindi c'era anche una... Sai l'autostima come cresceva, invece lì sei crollato, sei crollato, perché lui ha fatto anche, ha contribuito, lui ha contribuito così come ha contribuito ieri, perché se chiesa in forma tu me lo devi mettere, così come ha contribuito con l'Inter che ha giocato una partita poco coraggiosa, anche con l'Udinese, con l'Udinese e Ildiz per cosa me lo metti alla fine? Prova anche le tre punte, non mi metti Cerri, a un certo punto mi ha messo Cerri, perché deve prendere un'interventura della Nezgen, che esordiva quella sera in un contesto difficile, perché dovevi ancora recuperare la partita? Soprattutto, io non vedo mai grandi occasioni, ma l'allenatore si accontente, va in conferenza stampa e dice ma noi facciamo tre di ci tiri a partita la nostra media e poi creiamo cinque occasioni, con l'Udinese ne abbiamo creati anche sei, va bene, come va bene? Non va bene, non va assolutamente bene, una grande squadra ne crea molti di più, guarda l'Inter, vabbè adesso, l'Inter è un altro pianeta, ma già il Milan ne crea molti di più. Il punto di svolta è anche la sconfitta dal punto di vista psicologico dello scontro diretto e quindi noi vediamo che nella realtà c'è un qualcosa di completamente opposto a quello che invece Allegri ci voleva far credere, cioè noi vediamo la quinta, vediamo la quinta, no, questo gruppo con i nervi era compattato da questo più uno, meno uno, meno due, più uno, nel momento in cui loro hanno detto vabbè, qua ci siamo staccati, con l'Udinese che secondo me è stata la peggiore partita, sono d'accordo con Marcello, perché con l'Empoli hai il discorso di dieci uomini, con l'Inter hai il discorso di una partita comunque difficile, fuori casa, col Verona è stata una partita un po' sulle montagne russe, ma un Verona che comunque ha fatto anche dei gol, il primo è stato bellissimo, ma anche l'altra azione, con l'Udinese non ci sono alibi, cioè non ha creato granché, non è riuscita, poi i giocatori messi un po' a caso, uno mezzo alla sinistra che non l'aveva mai fatto, in secondo tempo non hai fatto un tiro in porta, l'unico tiro in porta l'hai fatto con Milica e ti sono annullato il gol, l'unico. Non ti puoi basare in un progetto tecnico vincente, anche in ottica programmazione, sull'essere lì con la difesa solida, sui nervi, a giocare punto a punto, oppure devi avere, come dice Massimo, perché l'ha già fatto nel suo curriculum, quattro campioni nuovi, l'anno prossimo metto due centrocampisti, due, no uno, cambio davanti perché vendo uno tra Vlaovic e Chiesa e vado anche lì a inserire un altro giocatore, un difensore, l'ha già preso, Tiago Giallo, ma è questo il progetto della Juve? Secondo me no, secondo me il progetto della Juve è fare un altro tipo di calcio e andare su un altro tipo, poi se Allegri dava delle garanzie quest'anno un cambio che non sta dando. Ma se Allegri cambia tutto quello che stiamo dicendo salta tutto perché c'è una rivoluzione globale, perché si parla di Tiago Motta, se viene Tiago Motta si porterà un paio di uomini. Ma non vai a prendere che ne so, adesso Klopp starà fermo, però dico non è che vai a prendere Klopp o Guardiola, vai a prendere Tiago Motta. Ma noi oggi quegli allenatori, non c'è una squadra in Serie A che si può permettere all'allenatore da 8 milioni. Questo sto dicendo, Giuntoli viene chiamato anche perché ha portato i risultati negli anni a Napoli. E in questo momento non ha ancora fatto nulla, Giuntoli. No, questo è il primo anno. Sì, ma anche quando è arrivato, anche adesso a Mierlego. Sì, a livello di mercato ha fatto pochissimo. Preso Alcarazzo che non conosce nessuno, non conosce giusto lui, ma non si è ancora potuto muovere perché gli hanno messo dei paletti. Esatto, però dico queste prime mosse, anche i giocatori che magari stai iniziando a seguire, cioè si vede che sono mosse che vanno in una determinata direzione. Io non prendo il campione fatto e finito e gli do 12 milioni all'anno, anzi uno che ho, Vlaovic, voglio vedere di ridiscutere il contratto. Cioè una Juve che quest'anno non avrà i 60-70 milioni della Champions a bilancio, l'anno scorso era meno 123, quest'anno sarà un altro meno molto profondo rosso, quindi non è che puoi... Beh, no, un attimo, adesso c'è l'aumento di capitale e il rosso scompare. No, ma lascia perdere l'aumento di capitale non vuol dire il rosso lo fa uguale. No, il rosso scompare perché tu metti 200 milioni quindi appiani tutto. Il problema è che poi non hai grandi margini di manovra, devi stare comunque attento, devi anche cercare di vendere per acquistare. E poi quanto dura Exxon a tirare fuori 200-300 milioni di ripiano perché l'anno scorso qua denari ripianati? No, in totale ormai 4 più 3 più 2. No, in totale con i tre già che ha fatto è uno 700 e passa a milioni. Tre, quattro e due. Adesso arriviamo a 900. Però diciamo, l'anno prossimo la Juve torna in Europa al di là della scaravanzia di Allegri è giunto. Li torni in Europa, questo almeno possiamo dire. Ma certo, ma ovvio. Allora, torni in Europa, devi ridiscutere. Io non sono ancora sicuro. No, io sono sicuro. No, ma io parlo di Europa, non di parlare di Europa. Ah, Europa. Eh, Europa, tu non riferisci a Champions. No, per me è in Champions sicuro, però voglio dire, vogliamo fare gli scaravanzi. La conferenza, vabbè, anche la conferenza. No, ma sto dicendo. La conferenza è scontata. Ma cos'è, un crollo? Cioè, non fa più un punto. No, ma quello che dicevo io, allora, anche se non dovesse essere. Però non fa più un punto, scusami Federico, però scusa, non è che uno la tira lì a caso. Se tu tra Empoli, Udinese e Verona fai due punti, se ti vai a leggere, accetto forse la prossima, ma poi ha tutte le partite con tutte le squadre, secondo me, più che stanno da questa parte della classifica. A partire dal Torino, a parte l'Inter. Napoli, Napoli e Atalanta. Ma le ha tutte. C'è Atalanta, Fiorentina, Napoli, Lazio, Roma. Però Massimo, quello che volevo dire per concludere, perché la Juve dovrà ridiscutere. Massimo, io lo dicevo perché qualcuno qui ha detto la Juve va in conference. Ho detto conference. Chi l'ha detto? Non io. No, 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 no. Io ho detto vai in Europa, ma sicuro possiamo dire oggi che vai in Europa sicuro. Allora dico, dovrà ridiscutere, perché questo non lo dice nessuno, ma dovrà ridiscutere il settlement agreement con la UEFA. Quando ridiscuti puoi fare tutti gli aumenti di capitale che vuoi, ma dopo, non puoi fare meno 80 a piacere l'anno dopo. No, 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 è chiaro. Ma non lo faranno mai meno 80. Eh, ma giuntoli è stato preso anche per cercare di dire... Per fare un mercato sostenibile. Esatto, perché ci deve essere uno che ha le idee da un'altra parte, noi che abbiamo più ricavi, non possiamo fare a un altro livello le cose fatte... Beh, perché la UE viene da anni di mercati sbagliati un errore sull'altro. Soprattutto dopo l'addio di Marotta, no? Perché prima le cose andavano sicuramente meglio. A rientro, concludiamo il discorso di UE con un altro passaggio. Proprio questo che cade a fagiolo, come si suol dire, Allegri che dice non siamo mica sicuri di andare in Champions. Reggio del Cagliari proprio in questo istante e credo abbia segnato ancora Gaetano, se non vedo male, che aveva già segnato un gol bellissimo in Cagliari-Lazio settimana scorsa. Lì però poi finì male la partita per il Cagliari. Qui non lo sappiamo, potrebbe essere un gol molto pesante. Minuto 44, il Cagliari va a pareggiare dunque a Udine e in questo momento è sempre al penultimo posto. però rimane attaccato a Verona, a Sassuolo, a Empoli, insomma le squadre che stanno lottando per la retrocessione. Dicevo che c'era un passaggio di Allegri in cui si parla proprio di quello che diceva poco fa Massimo cioè che la Champions non è al sicuro. Quando diceva queste cose un mesetto fa tutti sorridevamo pensando che Allegri si nascondesse per non ammettere che lottava con l'Ide. Anche adesso sorridiamo noi. Anche adesso dici. Sentiamolo però prima Massimiliano Allegri. Dieci punti. L'arrivo ha dato tutto ma un conto è dare tutto con una certa cattiveria un conto è dare tutto con una cattiveria che non ci consente di vincere la partita. Tutto passa da lì. Ma i ragazzi lo sanno perché altrimenti noi avremmo fatto due punti in quattro partite soprattutto con Empoli, con Udinese. È vero che c'è stato il controcorpo della partita collente però bisogna risettarlo. Non è che possiamo stare lì. E poi non possiamo pensare e credere di avere già conquistato la Champions. Poi abbiamo un secondo conto in lotta con il Milan che sarebbe un obiettivo straordinario da raggiungere. E su questo dobbiamo lavorare. Perché matematicamente fino a che non l'abbiamo raggiunta non hanno potuto e non c'è la Champions. Marcello, lui lo dice perché è preoccupato o lo dice per rimarcare che poi quando sarà Champions è stato un grande risultato, un grande traguardo? Beh, lui non vuole assolutamente farsi sfuggire a questa cosa perché è l'obiettivo che gli hanno prefissato all'inizio della stagione i dirigenti e quindi quello non può a prescincella a Juventus non può non fare la Champions il prossimo anno se no veramente lui salta. Allora, lui chiaramente insiste su questo e vuole che entri nella testa dei ragazzi ma la cosa che non riesco a capire è ma dopo Empoli gliel'hai detto perché tu in conferenza stampa hai detto le stesse cose gliel'hai detto? Sì. T'hanno ascoltato? No. Gliel'hai detto dopo l'Inter? Sì, gliel'ho detto. T'hanno ascoltato? No. Udinese? No. Verona? Adesso vediamo se lo ascoltano dopo Verona perché a me sembra che proprio la squadra siccome ha capito che non vince più lo Scudetto che era il vero obiettivo della squadra Il sogno, sì, il motore, no? Il vero obiettivo della squadra anche lui ci sperava in un certo senso perché io mi ricorderò sempre quando entri nello spogliatoio dopo la vittoria in casa col Napoli va a abbracciarsi i giocatori uno per uno nello spogliatoio cioè lo fai perché eri il quarto posto? No. Lo fai perché ti stanno tenendo in vetta no? E quindi però le stesse parole che ha speso adesso della Champions anche quando era a menù due dell'Inter diceva le stesse cose del sogno Scudetto cioè non ha mai parlato di Scudetto adesso ti dice la Champions non è sicura ma non ha mai ammesso né in un caso né nell'altro niente cioè la modalità è la stessa No, ma sto dicendo un altro I giocatori lo facevano Ah, i giocatori Sì, sì Sì, sì Anche Alessandro ieri l'ha detto I giocatori quando tu li andavi a intervistare tutti da Rabbiò per primo che adesso parla di squadra Moscia ieri ha fatto un'intervista e dice siamo Mosci Ma Rabbiò fino a due mesi fa diceva noi ci crediamo vogliamo uno scuoto la stessa cosa lo diceva anche Locatelli quindi la squadra ci credeva più di lui è venuto a mancare questo perché hanno capito che ormai non lo vincono più ed è crollata e lui non è riuscito di nuovo a riattivarla Ma secondo me il motivo non è tanto dal punto di vista psicologico secondo me il problema come abbiamo detto dall'inizio sono le scelte tecniche cioè tu in quattro partite non puoi mettere una volta cambiosi a destra poi l'altra volta a sinistra lo scambi con B e A poi ci metti costi cioè ha fatto secondo me i motivi sono quelli secondo me dal punto di vista psicologico cioè comunque vedi che l'altro giorno hai segnato hai pareggiato dopo due minuti che avevi preso il 2 a 1 cioè comunque hai avuto la forza di reagire cosa che magari le altre volte poteva capitare di fortuna al 93esimo però a quel punto quando hai ancora 20 minuti più recupero da giocare devi provare fino all'ultimo a cercare di vincerla e invece ho visto che ci ha provato fino all'ultimo Chiesa quando è entrato Chiesa lui mamma mia ha portato scompiglio in quell'area giallo-blu però prima non c'era tutto questo e poi soprattutto è vero che noi rimproveriamo anche a lui perché lui gliel'abbiamo detto prima le colpe ce l'ha ma siccome lui in conferenza stampa insiste sui giocatori che dice noi dobbiamo resettare dobbiamo resettare ma sei tu che lavori non siamo io e te che andiamo a la continenza Marcello ma resettare mentalmente c'è lui che lavora tutti i giorni la continenza gli parla i giocatori probabilmente gli parla ma non lo seguono Marcello ma resettare mentalmente oppure vedremo una Juve messa diversamente in campo no 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 non la cambia lui prova durante la partita durante la partita prova di tutto e di più che l'Udinese aveva fatto addirittura un certo punto 4-1-4-1 poi ha fatto 4-3-3 poi ha fatto 4-4-2 perché non so anche ieri 4-3-3 4-3-3 però fa il 4-3-3 a un certo punto però togli Vlaovic sì perché poi ha fatto il 2-2-4-3 dopo 2 minuti ha subito tolto una però ha tolto Ildic comunque giocava cambiato sotto a destra giocava cambiato sotto a destra da parte Chiesa e Milic diceva Massimo sentivo almeno captavo un Massimo che dice ma noi però non possiamo sapere quello che lui poi dice alla squadra cioè magari dice una cosa in conferenza esatto io ho sempre detto ragazzi attenzione perché l'ho visto io con i miei occhi cioè allenatori che alla squadra dicono una cosa e che poi escono fuori in conferenza stampa e dicono l'opposto della cosa che hanno detto la squadra avvisando addirittura i giocatori guardate che io vado fuori adesso dirò così così ma ricordiamoci che è così 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 sì ma Massimo io volevo perché è la verità poi scusami scusami Marcello scusami tu continui a rimescolare sempre la stessa cosa da allegri questo questo ti devi aspettare ma non puoi aspettarti qualcosa di diverso poi lo lo puoi criticare perché è facilmente attaccabile criticabile quando perde perché finché vinceva e finché era lì attaccato all'Inter tutti dicevano ok tutti gli stessi che oggi lo ammazzano e quelli che lo ammazzavano prima tutti dicevano ah però insomma adesso bisogna essere obiettivi anche se magari non giochiamo a te lo dicevano tutti ragazzi allora vuol dire secondo me che se no aspetta fammi finire però scusa fammi finire perché io ho stato zitto fino adesso fammi finire Marcello sai poi anche tu meglio di me cosa vuol dire essere collegati allora io ti dico quando tu poi ci mettiamo qui lo critichiamo l'ho criticato anch'io eccetera eccetera però quando tu prendi un cuoco di quel genere e gli dai quegli ingredienti quella pietanza viene fuori non puoi pensare che quel cuoco è cambiato in modo straordinario quella è la linea guida del cuoco cioè poi può uno dice sì ma si deve aggiornare ma si sarà pure aggiornato ma se il modo di vedere calcio è quello o cambi allenatore o cambi allenatore o se ti tieni questo quando vince devi essere contento perché ha vinto quando perde lo ammazzi perché comunque sempre quello è il gioco perché anche quando vinceva erano spunti personali le vittorie della Juve di quest'anno sono venute fuori da spunti personali e da questa difesa granitica fisica atletica messa bene compattata che ti permetteva magari di vincere 1 a 0 2 a 0 1 a 0 2 a 1 questo è secondo me però Massimo sei d'accordo un altro allenatore sì c'era prima ma io mi chiedo sul fatto che se vuoi vedere qualcosa di diverso devi cambiare allenatore infatti io opto per il cambio di allenatore infatti ma quello che dice giusto ma io voglio dirti questo allora per la prima cosa quando dici che bisogna allora una cosa dicono in conferenza un'altra cosa dicono i giocatori quello è sicuro allegri sempre sicuramente sarà andato come dici tu sicuramente avrà usato altri termini altri toni però bisogna capire che cosa dice alla squadra io lo so bisogna capire cosa dice alla squadra è convincente nei confronti della squadra se la squadra per quattro giornate continua a essere sempre uguale vuol dire che non è convincente se ancora lui continua a dire a rimproverare alla squadra che bisogna va resettata vuol dire che non è riuscito a convincerla quindi gli ha parlato gli avrà parlato ma probabilmente non gli ha detto le cose giuste non gli ha toccato io sono il primo a dire che lui ha fatto degli errori che oltre ad essere errori tecnico-tattici sono stati errori di un'inerzia psicologica che è andata al contrario di quella di dove sarebbe dovuto andare cioè hai giocato male secondo me anche col fattore Ildiz Ildiz che è un ragazzino che veniva fuori da 4-5 partite giocato in un certo modo che aveva dato anche un'impronta probabilmente un po' di entusiasmo di freschezza a questa squadra e tu dopo Lecce ti metti in conferenza a dire che ha giocato male che è meglio che stai seduto in panchia l'autogol l'autogol ha sbagliato esatto ha sbagliato completamente scusa scusa se te lo dico ma Allegri secondo me mi è sembrato un allenatore quasi che che metteva davanti il suo carattere permaloso presuntuoso è anche un filino arrogante scusatemi se lo dico sì e la seconda cosa che volevo dire a Massimo poi ti scusa perché così non mi prendo il ragionamento quando lui dice e vabbè però fino a ieri lo lo davi dicevi che ti piaceva allora prima di tutto che io a me il modo in cui gioca a legno non mi è mai piaciuto e tu lo sai ma anche quando finisceva e la pensavamo uguale però ti prendevi le vittorie quando ha fatto quel periodo lì buono è chiaro che io gli davo i suoi meriti però però quando davamo i meriti ad Allegri giustamente tutti noi io penso anche Massimo ma molti di noi anche giuventini avevamo sempre paura che da un momento all'altro tutto potesse crollare perché io soprattutto perché ero consapevole della forza della squadra dicevo ma questa squadra sta dando più del dovù cioè è impossibile che questa squadra e allora ci credevo anche che se fosse tenuto questo ritmo ma era un super miracolo che aveva fatto Allegri invece non ce l'ha fatta perché la squadra è quella è una squadra mediocre con 6 o 7 giocatori buoni e lui stesso non ha idee innovative gli è andato tutto bene per un periodo e allora abbiamo tutti creduto che stesse facendo meglio di quello che pensavamo però io avevo sempre il timore che potesse crollare e infatti per crollare allora due cose una sul fatto che Allegri è sempre diverso questo è un dato di fatto davanti alle telecamere senza che sappiamo cosa gli dice per motivare la squadra ma faccio un esempio su tutti ho visto anche io tante volte arriva super arrabbiato in sala stampa poi si accende il microfono cambia proprio inizia la recita gli arbitri sono stati bravi i giocatori hanno giocato bene quando lui è il primo che è andato lì nel sottopassaggio a dire di tu prende le multe quindi sicuro Allegri è uno anzi l'ha proprio detto lui l'anno scorso una volta disse che stava facendo un lavoro su se stesso per controllarsi mediaticamente che doveva essere perché alla Juventus bisogna dare l'esempio poi il campo lo vedevamo e lo vedevamo lo stesso ma adesso al di là di quello io non me lo sono sognato che all'inizio di quest'anno già dalla tournée americana si era detto la Juventus quest'anno avrà una partita a settimana quale migliore occasione per provare a essere più intensi pressare un po' più alto provare a fare qualcosa di diverso perché il calcio è cambiato e alla fine delle prime tre quattro partite Chiesa l'ha detto alla fine di ogni partita era normale fare questo cambio perché a noi piace giocare in avanti poi ti è esploso quest'anno anche Ildiz che è un giocatore di sicuro valore ma l'hai sminuito magari l'hai sminuito in quel momento perché ha visto un comportamento che non gli è piaciuto però dico oggi secondo me è quasi naturale e obbligatorio andare su Chiesa Ildiz e Vlaovic anche perché poi hai Milik ti tornerà Ken quindi le alternative ci sono anche lo stesso Iling Junior o Kostic possono giocare altri a sinistra qui si gioca secondo me la partita se lui è quello che dice Massimo che uno che nasce tondo non muore quadrato cioè la sua vittoria viene questo dice un po' la sua storia ho capito ma allora lui vuole rimanere alla Juventus o no poi però poi però non si può ma no non lo so io questo non lo so io ho sentito Galeone ha detto di sì Galeone lo sente tutti i giorni ma io ho sentito una persona molto 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 vicina mi pare comunque che non so se è il consiglio che gli ha dato questa persona che sia arrivato il momento dopo ribadisco dieci anni di calcio tu hai passato otto anni alla Juve e due a casa quindi vuol dire che secondo me si è entrato quasi inconsapevolmente in una comfort zone però Massimo ti dico pure Allegri che mercato non fa bene la carriera lo stimola la motivazione di un uomo non di un professionista lascia stare Allegri Pioli Conte però dico Massimo c'è un profession un allenatore come Allegri oggi in Italia è difficile vederlo in un'altra piazza all'estero magari sì però all'estero dove c'è in Arabia si parlava di un'offerta faraoni 20 milioni vuol dire finire la carriera carità in Arabia è stato offerto un contratto te lo dico perché sono testimone di questa offerta è stato offerto un contratto di 30 milioni ad Allegri che ha rifiutato per questo dico all'Arabia la capisco ma le squadre Liverpool Barcellona che cambieranno sicuro allenatore forse anche Paris Saint Germain e Bayern Monaco ma sono sta beh allora quando lui è tornato alla Juventus ma questa è storia ma vera l'ha cercato Real Madrid prima della Juventus e l'Inter anche lui ha detto no a Real Madrid lui ha detto no a Real Madrid però lì veniva dagli anni delle vittorie però aveva già preso l'accordo con la Juventus lì veniva da due anni fermo questi tre anni hanno attratto le big d'Europa secondo me no perché lo vedono un po' come gioca anche la Juve Real te l'ha detto no ma prima no ma Real prima quando è tornato nel 2021 io dico adesso dopo tre anni di Juve sarebbe difficile però però penso penso che la PIL un po' ce l'ha ancora io non credo che sia Svan è uno degli allenatori più vincenti degli ultimi degli ultimi anni sì però Massimo Ancelotti Ancelotti che è stato poi l'avevamo diciamo definito bollito è finito Napoli Everton eccetera è andato a Real Madrid però Ancelotti aveva vinto le coppe campioni Allegri è vero ha fatto due finali ma un po' di anni fa ormai nelle ultime partecipazioni alle coppe europee l'anno scorso non solo il girone di Champions anche quando è scalato in Europa League andavano lo so in casa del Friburgo anche quando passava lo Sporting Lisbona e la Juve veniva però non possiamo fare paragoni tra Allegri Ancelotti Ancelotti ha vinto campionati in Francia in Germania in Inghilterra in Spagna in Italia ovunque ha vinto campionati e Champions League compreso la decima ha vinto le Champions e questa è la differenza questo signore non l'ha mai giocato neanche a Mendrisio non l'ha mai allenato neanche in Lugano è sempre stato la nostra ora ma sto dicendo la stessa cosa Gianni sto dicendo proprio che per prenderti in Europa è il tipo di competizione europea come te la giochi in Europa lui piace stare là se vuoi rifiutare a Madrid ragazzi è perché non vuole andare fuori dall'Italia ma lui si è creato questo rapporto con la famiglia Agnelli così talmente stretto sono amici tant'è vero che adesso chi è il sostenitore principale? e se John Elkan decide che deve restare lì resta lì ma lui resta col contratto in scadenza come diceva Massimo su John Elkan su John Elkan devo dire che ha adesso non lo so se ha dei consiglieri però ha un grandissimo fiuto sulle proprie società perché la verità è che secondo me dopo la scelta azzeccatissima di Marchionne poi Camilleri alla Ferrari poi Vigna lo stesso Tabarez che sta facendo qualcosa di impensabile a Stellantis e quindi ha avuto un genio secondo me da quel punto di vista io non so se per disinteresse o per mancanza di fiuto ma mi sembra che alla Juventus Elkan da quando è andato via Marotta si è accorto che probabilmente qualche errore è stato fatto e c'è questa notizia che adesso in pubblicità Gianni mi confermava molto interessante sul Milan tra poco ci andiamo notizia che riguarda la proprietà del Milan e dei futuri sviluppi che potrebbero cambiare insomma la storia del club volevo però parlare un po' di Inter perché insomma dobbiamo dire Michele si sta andando oltre ogni più rosa e aspettativa un Inter quasi perfetta lo scudetto sempre più vicino adesso arriva anche la Champions League e con un Inter che ha questo rendimento io credo che insomma puntare ad andare in fondo non sia assolutamente utopistico sentiamo Inzaghi che ci parla del 2024 perfetto che sta facendo fin qui la sua Inter abbiamo fatto un 2024 perfetto ma è un percorso che ci deve portare negli ultimi tre mesi a continuare così a rimanere concentrati sempre sul pezzo adesso abbiamo fatto questi 50 giorni eccetto Riade per la finale Supercoppa che abbiamo fatto due partite in tre giorni abbiamo giocato sempre ogni 5-6 giorni abbiamo preparato nel modo migliore le partite adesso sappiamo che ce ne saranno tante ravvicinate e dovremo essere bravi a prepararci nel migliore dei modi tutti gli anni sono diversi uno dall'altro insomma l'anno scorso è stata una pausa lunghissima vista il mondiale quindi era una novità per tutti noi allenatori quest'anno non ci siamo fermati proprio mentre il primo anno ci eravamo fermati per una settimana quindi è una novità per tutti quanti ma la squadra sta bene lavora chiaramente in questi 45 giorni abbiamo avuto tempo per allenarci nel migliore dei modi abbiamo fatto dei carichi giusti ma al di là dei carichi del lavoro è come la squadra insomma si allena con questo spirito per quanto riguarda i ragazzi dobbiamo continuare insomma hanno tantissima voglia seguono me lo staff nel migliore dei modi per quanto riguarda il gioco i piazzati dobbiamo continuare chiaramente mi rendo orgoglioso vederli giocare così da tantissimo tempo insomma è orgoglioso sì inzaghi credo che ne abbia ma anche diciamo il pubblico l'atmosfera che si respira ogni volta anche allo stadio è di entusiasmo divertimento grazie vinci sempre però non è che vince e basta capito c'è proprio i giocatori 5-0 esatto i giocatori stessi dicono che si divertono giocando poi ci sono si divertono giocando e vincendo poi ci sono dei meccanismi per esempio mi siede la palisco la roba qui te lo ricordi non è che tutti giocano e fanno 59 gol e ne subiscono 12 io non ho mai visto uno giocare e vincere che non è contento però se voi lo trovate ti ricordo il Milan di Capello che spesso cita Tiziano in un anno fece 36 gol e vinse il campionato perché vinceva 1-0 le partite aveva una grandissima difesa erano contenti lo stesso i giocatori erano contenti lo stesso però è diverso da squadra a squadra se no tutte le squadre sono uguali quando vinci ho capito guarda il Bologna ma lui parla di coesione che c'è di gruio io parlo di meccanismi di gioco siccome stiamo parlando stiamo parlando di stiamo parlando di Inzaghi per esempio Pavard rispetto a Skriniar sul centro-destra altre caratteristiche uno che accompagna di più l'azione come lo fa Bastoni a sinistra il centro-campo composto da Cianoglu che è diventato regista e in quel ruolo ha raggiunto l'apice della sua carriera cioè lui non avevamo mai visto prendersi proprio la regia di una squadra con Mkhitaryan anche lui è sempre stato un grande giocatore ma era un trequartista o partiva più esterno a sinistra adesso fa la mezzala giocando a centro-campo come tuttocampista ed è una serie di tasselli che sembrano proprio ognuno al suo posto però adesso questo idillio verrà messo alla prova come avete detto come diceva prima Federico martedì da una squadra che è di un livello molto alto io l'ho vista giocare con Real Madrid è vero che in Liga ha avuto tante sconfitte soprattutto fuori casa però è una squadra che nella partita secca adesso sto vedendo anche tra i convocati torna Morata che si diceva mancherà Morata quindi non so adesso se è pretattica ma se lo portano secondo me può darsi che alla fine giocherà ha vinto adesso 5-0 con la Spalmas che è un po' come Inter salernitana però anche l'Atletico Madrid è una squadra che quest'anno attacca è una squadra meno barricate come negli anni scorsi ha cambiato è Morata un'insidia bella grande anche per voi Morata guardavo le ultime non è sicuro che sarà convocato però ha fatto una parte dell'allenamento in gruppo e sembra insomma lo portano lo portano no ma lo portano Marcello per il ritorno sicuramente ci sarà a questo punto vi va bene anche lì ho capito però dopo il sorteggio dell'anno scorso dopo Italia che quest'anno l'Atletico Madrid senza Morata ho capito ma Griezmann Depay e Correa hanno segnato tutti e due ce l'abbiamo la probabile formazione dell'Atletico in centrocampo sono comunque tutti qualitativi questo stesso Gliorente che adesso ha giocato l'Atletico è forte è forte ecco guardatela così insomma 5-3-2 o 3-5-2 poi dipende io credo che Gimenez senza Morata hai messo Depay perché Morata probabilmente non sarà titolare ma colpisce già che possa essere Gimenez gioca per me gioca Depay per me gioca Gimenez sicuro dietro perché l'hanno recuperato da due partite però è il più forte che hanno a livello di marcatura per me non gioca Depay gioca Gliorente Gliorente gioca a destra gioca a destra perché ieri l'ha provato Falso Nueve però gioca quasi sempre esterno a destra perché ieri voleva far risparmiare gli attaccanti Griezmann non ha fatto un minuto Depay è partito Correa è entrato dopo Depay anche secondo me qui c'è il ballottaggio Morata Morata Depay se Morata e poi Gimenez dietro però questa è una squadra forte quindi sono partite allora io credo che l'Inter deve fare la partita che l'approccio come con la Juventus in casa con l'Atletico perché devi provare a tenerli lì a sbloccare subito la partita per non fargli fare quella partita molto tattica Simeone non deve avere più niente poi da difendere perché se vai con la qualificazione in bilico al Vanda Metropolitano lì è veramente una partita 50-50 può succedere può succedere di tutto poi delle altre squadre in Champions per me il City testa di serie numero 1 il Real Madrid testa di serie numero 1 e mezzo nel senso che più o meno siamo lì si recupera tutti e poi con le altre l'Inter è nel calderone di quelle squadre di seconda fascia insieme all'Atletico ma anche metto l'Arsenal il Paris Saint Germain perché se Mbappé si sveglia bene la mattina può vincere la partita ma voi potete concentrarli tranquillamente sulla Champions perché un campionato è giusto loro si concentrano sulla Champions capito io lo considererei con quel vantaggio lì effettivamente se non lo fai l'altro si è detto l'altra sera ti sentivo anche durante la telecronaca perché non fai i cambi avrei tolto a fine primo tempo subito avrei tolto a fine primo tempo almeno tre giocatori invece aspettate il sessantesimo poi è anche vero che si stavano comunque allenando giocando perché comunque era una partita già segnata sul 3-0 però insomma l'Inter a Cerbi non giocherà sicuro comunque è vero che Debrai sta facendo benissimo sugli esterni ho qualche dubbio perché me l'hanno messo Di Marco gioca sicuro Di Marco gioca sicuro Di Marco gioca sicuro però Dunfris e Carlos Augusto sono stati migliori Darmian Di Marco sì credo di sì perché li ha fatti riposare però Dunfris e Carlos Augusto hanno messo secondo me qualche dubbio soprattutto Dunfris con la fisicità che ha perché Dunfris non dimentichiamo che fino a Napoli-Inter quando non si parlava del non rinnovo prima dell'infortunio era un giocatore che stava battendo record anche nell'Olanda ogni partita faceva assist gol è favorita l'Inter Gianni contro l'Atletico quindi io Dunfris lo terrei assolutamente non favorita io credo che abbiano le stesse chance certo in un buon momento è veramente molto buono quello dell'Inter proprio è tranquilla in campionato quindi ha la condizione migliori giocatori stanno bene fisicamente ha i ricambi può fare turnover può fare quello che vuole poi in Champions lo sai che non puoi mai sbagliare nulla per cui quando è l'occasione devi tradurla in qualcosa di concreto l'Atletico è una squadra rognosa da giocarci contro lo sappiamo perché l'abbiamo visto sempre in Europa non è una squadra sicuramente che gioca bene a calcio ma che è difficile da battere però l'Inter sicuramente ha tutte le possibilità per farlo ma non vedo un Inter favorito rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato Turam ti ha convinto un po' di più perché è arrivato a 10 gol in campionato Turam mi piace ma mi piace tanto Pulisic quindi io continuo a non fare il cambio io mi tengo Pulisic Marcello che dici tu Inter atletico Mariana prima Mariana cosa devi pensarti io invece penso che sarà una bellissima partita anche perché comunque l'Inter in Champions adesso al di là del campionato riesce a sfoggiare lo stesso Inzaghi delle carte vincenti ma non perché alla fine adotti sempre il 3-5-2 ma perché mentre gioca riesce poi a far salire uno a arretrare l'altro e lo fa nei momenti giusti al di là dei cambi che poi salvo ipotetici cartellini che poi obbligano Inzaghi a fare i cambi per il resto sono veramente molto equilibrati e attenzione perché ci sono Mkhitaryan e Lautaro di fidarvi e questo è pericolosissimo quello infatti era la domanda che ti avrei posto proprio inerente loro due pensa andare a Madrid senza uno dei due o tutti e due e beh insomma si devo stare attenti Marcello hai riflettuto? no ma non è che lo riflette era che non parlava un po' lui ricorda il 3-0 in rimonta che fu una partita io penso che l'Inter che abbiamo visto giocare finora in campionato è sicuramente un Inter che se gioca così in Champions League può arrivare fino in fondo perché è molto forte obiettivamente l'Inter adesso al di là di tutte le polemiche in genere faccio obiettivamente è molto forte e gioca un bel calcio però io devo capire se l'Inter di campionato la vedremo uguale anche in Champions League perché? per il semplice motivo che quando ho visto il girone come l'ha giocato l'Inter non era un girone difficile qualche difficoltà l'ha avuta qualche difficoltà poi per carità lì in Zaghi se le raggiocava anche troppo con i cambi di forno esatto solo Inter Benfica non si capivano però in quel percorso lì le ho visto avere delle difficoltà Correa al Sociedad non ha mai vinto all'andata meritava strameritava di perdere ha giocato soltanto gli ultimi dieci minuti con lo Strasburgo ricordiamoci che vince su calcio di rigore un calcio di rigore secondo me abbastanza generoso mentre invece l'Atletico Madrid che ha giocato con Feyenoord il girone della Lazio e Lazio cioè secondo me li ha rullati tutti li ha rullati tutti quindi voglio vedere voglio vedere se l'Inter sarà la stessa anche martedì con l'Atletico Madrid quello che abbiamo imparato a conoscere in campione posso aggiungere solo una cosa sì certo vai Marito ecco l'anno cioè prima abbiamo criticato appunto il discorso che il gruppo non segue Allegri l'anno scorso comunque tanto scusami ma c'è un calcio di rigore per l'Empoli Empoli Fiorentina rigore per l'Empoli e quindi attenzione perché al minuto 55 la partita può cambiare fallo credo di Faraoni vedo inquadrato lui poi non so se è stato lui oppure no comunque Empoli che è andato via in campo aperto in uno di quelle ripartenze che a volte concede italiano qui so che con Marcello noi ci capiamo non facciamo il discorso con Borrell perché lui e poi insomma il fallo il fallo di Faraoni e quindi calcio di rigore Mariana vai poi dopo quando c'è il rigore lo raccontiamo ok perfetto no appunto prima parlavamo del gruppo che non segue Allegri e quant'altro però l'anno scorso noi analizzavamo anche l'Inter che in campionato faceva una cosa sembrava che i giocatori non ascoltassero il proprio allenatore questo lo avevamo criticato tantissimo in Champions sembrava un'altra squadra quindi quello che è curioso è vedere se in effetti questo cambiamento che dell'anno scorso quest'anno comunque è evidente proseguirà anche nel corso della Champions perché in campionato l'abbiamo visto c'è una coesione spettacolare sia tra l'allenatore che la propria squadra in Champions questo bisogna vedere perché in effetti non che abbia giocato in maniera brillante cosa che invece l'anno scorso giocava in maniera eclatante in Champions e il campionato no è infatti quindi quello bisogna vedere se quest'anno c'è calcio di rigore intanto parte Niang e gol l'Empoli pareggia Niang è il secondo gol consecutivo da quando è tornato in Italia entrambi su rigore uno a Salerno settimana scorsa adesso questo nel derby toscano con la Fiorentina quindi uno a uno Empoli-Fiorentina così come uno a uno sempre a Udine tra Udinese e Cagliari voglio sentire anche Massimo su questa Inter in Champions che prospettiva può avere secondo te ma secondo me può arrivare fino in fondo per quello che ho visto in campionato è una squadra che può mettere in difficoltà anche quelle che potenzialmente anche dai buchi sembrano le favorite vale a dire il Reale il City perché a mio avviso non trovo in questo momento in Europa una squadra non tanto per l'espressione di gioco ma che sta bene il City secondo me si è un po' ripreso però ieri per esempio ha pareggiato è vero che poteva alla fine anche vincere con il Chelsea in casa il Real Madrid appena finito di pareggiare a Raio Vallecano è vero che non gli hanno dato due rigori clamorosi alla squadra di Ancellotti e quindi magari poteva vincere però non le vedo così tanto superiori le squadre che dovrebbero essere le prime diciamo così le prime favorite per questa competizione vedo che l'Inter secondo me è una squadra che se la può giocare con tutti fino alla fine e quindi è logico che step by step nel senso che adesso c'è l'Atletico e poi eventualmente poi tutto verrà determinato a mio avviso anche dai sorteggi perché i sorteggi la dicono lunga in questa competizione quando io dico che la Champions non è solo meritocrazia ma è anche un filino di fortuna quel filino di fortuna passa attraverso dei sorteggi che magari ti mettono al riparo da scontrarti con le eventuali favorite e magari ti mettono nel famoso gironcino magari un pochino più abbordabile però Massimo questo è l'ultimo anno c'è stata una battuta di Marcello che è passata sotto silenzio cos'è com'è che hai definito l'accento l'anno scorso mi hai ricordato il girone di Coppa Italia l'anno scorso l'ha definita il girone Bayern perché non è la Coppa Italia Napoli Milan Inter tutte lì c'era la Coppa Italia il Bayern di Monaco che non è più il Bayern di Monaco degli ultimi anni il Paris Saint Germain è in crescita perché c'è un allenatore che io trovo un bravissimo allenatore che piano piano sta rimettendo insomma la chiesa al centro del paese come si dice perché trovo che sia un allenatore non solo di buon calcio ma anche molto concreto e quindi Luis Enrique secondo me potrebbe essere l'arma in più oltre a quello che ha detto prima giustamente Michele perché Mbappé è sempre straordinario ed è uno che se scende dal letto col piede giusto è capace che ti fa vincere le partite quindi l'anno vero io l'Inter insieme a queste a queste tre cioè insieme a City Real e Paris Saint Germain secondo me l'Inter è lì tra quelle che possono arrivare fino in fondo vediamo un po' di Inter Inter che domani vivrà la vigilia dell'andata dell'ottavo di finale in casa contro l'Atletico Madrid un Inter che è in versione schiacciassassi Michele insomma i numeri li conosciamo ormai bene 8 su 8 nel 2024 6 su 6 in campionato miglior attacco miglior difesa miglior differenza reti insomma viene da pensare un po' in grande per questa Inter in Italia e in Europa sì viene 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 perché l'Inter arriva tra l'altro a questa a questo momento della Champions in ottime condizioni poi è vero che l'avversario è molto è molto complicato è ostico ma alla fine Morata recupera o no? Morata sembra che anzi senza sembra ha fatto una parte dell'ultimo allenamento e quindi ha sorpresa questa forse la famosa pretattica tutti fanno pretattica contro l'Inter è incredibile Morata era dato per forse recupera l'anno scorso c'era la pretattica Leao quest'anno c'è la pretattica Morata se lo recupera lo recupera e gioca ma fino ad oggi cosa si diceva? recupererà per la semifinale di Coppa del Re a inizio marzo sarà un test per vedere se il 13 marzo ce la fa mi sveglio il 18 febbraio e si allena miracolo era un allenamento un infortunio sembrava abbastanza grave all'inizio ma io sono contento per Morata voglio sempre giocare con le squadre al completo però per tornare al discorso uno ci deve credere certo che ci deve credere sempre considerando che l'Inter può avere anche un po' più di leggerezza in Champions in che senso? che in Italia sei la favorita sei la squadra più forte sei quella che tutti ti dicono lo stesso Inzaghi se non vinci lo scudetto quest'anno anche per lui ci sarebbero delle conseguenze mentre in Champions sai che ci sono delle squadre dei club che hanno un curriculum un passato parlo del City che è campione in carica del Real Madrid che ne ha vinte 14 e poi ci sono delle altre come Mbappé il Paris Saint Germain comunque l'Arsena che sta facendo una grande stagione quindi non è che hai quell'assillo devo vincere per forza l'Inter si diverte in campo i giocatori sono molto uniti c'è un gruppo forte erroraccio di Turati e la Roma raddoppia con Asmund la conclusione della distanza di Cristante Turati respinge in maniera approssimativa per non dire altro arriva Asmund la mette dentro ci sarà come al solito giocava nel Frosinone Asmund ha chiesto scusa ai tifosi di Frosinone non ho capito perché si scusa Asmund forse per l'errore del portiere magari la vede così ma insiste sai secondo me perché perché all'andata aveva segnato lui forse e ha fatto due gol in Serie A tutti e due con il Frosinone quindi magari stai chiedendo scusa di Asmund esatto secondo me è per quello all'andata aveva segnato lui che la Roma l'aveva ribaltata negli ultimi due minuti l'aveva segnato a Asmund e poi Lukaku qui l'errore di Turati è veramente grave perché il pallone di Cristante è potente sì si abbassa alla fine però oggettivamente l'errore è veramente grave e pone Asmund nella condizione di non sbagliare insaccare andare sul 2 a 0 al minuto 72 Asmund mi sembra l'uomo più felice del mondo quindi molto strano che abbia detto scusate scusate forse per prenderli in via l'atteggiamento di Usen in precedenza potrebbe anche starci perché Usen è stato sostituito non per l'ammunizione ma credo per evitare contraccolpi a livello ambientale quindi magari Asmund chiede scusa con tutto il bene hai fatto due gol in campionato e il secondo gol che fai ma esulta ma così chiedi scusa invece per concludere sul discorso di come arriva l'Inter con l'atletico perché ha parlato anche oggi Sommer ai colleghi svizzeri in cui dice che all'Inter si sta trovando benissimo soprattutto sottolinea da una parte l'atmosfera a San Siro non è la prima volta che lo dice e poi l'altra cosa il gruppo che ha una grandissima fame di successo anche lui dava bel 50 ma sottolinea per come è composta l'Inter da elementi di esperienza da una parte ci sono i Mkhitaryan gli Acerbi lui stesso Darmian e dall'altra parte c'è l'entusiasmo di Turam per esempio che è arrivato adesso o una serie di ragazzi più giovani che completano e creano un giusto mix in questo momento quindi secondo me l'Inter oggi arriva proprio nelle migliori delle condizioni una sola paura i diffidati attenzione perché Lautaro e Mkhitaryan sono due pesantissimi soprattutto per il ritorno e si azzerano dopo i quarti con la nuova Champions però Michele sai cosa mi piace c'è il rischio di una partita che possano saltarla da qui eventualmente esatto se prendono un giallo saltano i quarti compresi sai cosa mi piace di questa squadra qua che le partite prima della Champions League io sono molto attento a guardare queste cose qua l'Inter non gioca a delle grandi partite invece con la Salernitana nei primi dieci minuti ho visto un Inter con la fame a prescindere che è l'ultima in classifica ma l'atteggiamento che è migliorato perché su certi errori che abbiamo fatto in precedenza negli anni scorsi negli anni scorsi con la partita con il Liverpool ci ha condizionato anche Thomas che a febbraio l'Inter capitava che aveva un calo fisico invece quest'anno perché è una squadra più matura una squadra che ha capito gli errori ha avuto il calo tra fine dicembre e inizio agendato Roma Frosinone l'ha andata 2-0 gol di Lukaku e Pellegrini no ma ho sbagliato era il Lecce quindi non abbiamo capito perché ha chiesto scusa io volevo lanciare una provocazione ai due interisti in studio l'anno scorso l'Inter ha fatto la finale di Champions l'ha persa 1-0 giocandosela leggerezza ma invece la narrazione mi dice l'Inter è stratosferica se la può giocare alla grande anche in Champions ti dico una cosa allora Inzaghi quest'anno era un bivio senza il campionato rischiava il suo progetto in Champions è un qualcosa in più ma la società gli ha detto in tutte le lingue che la seconda stella mi sembra la storia della Juve con Allegri ma adesso parliamo così perché l'intercettere credo sia chiusa a meno che di un progno ancora non è chiuso nulla ma non è chiuso nulla ma io non sto bufando ci sono dei punti infatti Tomas cosa ha detto l'altro ieri Zaghi l'abbiamo visto anche con il Milan con la partita con Liverpool lo stavo dicendo prima a Michele ci ha condizionato tante situazioni ma infatti posso però scusate allora se tu mi dici scusa e fammi finire fammi finire di parlare fammi finire un discorso se no fammi finire il discorso ti sto dicendo visto l'esperienza passata dell'Inter quest'anno vedo un Inter più matura e sugli errori che ha fatto sta facendo bene e fino a qua ci siamo però ancora non ho detto nulla ci sono tante partite e vanno a giocare però scusate scusate avete rotto le scatole da Allegri che quando era secondo e non poteva dire che puttava al quarto posto ma è una cosa diversa scusate ma non deve dire che avete già vinto ma io non posso sentirmi dire a quando si oggi che giornale 18 febbraio sì ma ragazzi ci avete potenzialmente 12 punti in più della Juventus l'anno scorso il Napoli ma ragazzi due anni fa erano 7 punti che ci sono ridotti e Beroni hai perso 2 a 1 ma ragazzi ma il Napoli l'anno scorso era nella stessa condizione quest'anno e voi dicevate che aveva già vinto lo Scudetto perché non dite la stessa cosa adesso perché siamo scaramantici ma siamo scaramantici ma ora si scaramantici abbiamo paura del Mila noi abbiamo paura del Mila che stasera è seconda ma che paura di cosa ma lui ti sta sottolineando per esempio la frase di Inzaghi dell'altro ieri dobbiamo rimanere concentrati anche mentre dormiamo c'è una cosa che voglio dire io l'anno scorso due anni fa mi ricordo anche Inzaghi è quello che ti ho detto prima l'Inter prima di febbraio prima del Mila ma ci avete due anni di esperienza in più alle spalle è normale ma certo ma per questo che paura hai in campionato che paura cioè non hai sbagliato niente ma ti sta parlando di paura io sto parlando di scalamantici lui ha parlato di scalamantici io sono scalamantici è tutto aperto è tutto aperto mi dici il campionato è già chiuso ed è già in mano l'Inter è tutto aperto ragazzi dai chi ha detto sì ecco sì per quanto riguarda me insomma io non sono scalamatico poi capisco che Thomas possa toccare ferro legno lui tocca fierro questo era questo era servito sul piano questo campionato può parlare che non mi qua l'Inter mi pare evidente una cosa diversa invece è l'Europa perché in Europa non voglio essere banale però ti giochi tutto in due partite ci sono squadre come l'Atletico di Madrid che ha cambiato modalità di espressione calcistica gioca in una maniera diversa e quindi l'Inter dovrà dimostrare anche in Europa di avere una una certa valenza però in campionato oggettivamente cioè l'Inter dovrebbe combinare un disastro epocale per perdere questa ma il paradosso dovrebbe fare quanto fatto due anni fa ma il paradosso è che il miglioramento dell'Inter ottio che arriva il rigore per la Roma adesso c'è un bar in corso conclusione di Baldanzi Ocoli forse la prende col braccio l'arbitro ha fatto prima il gesto del giocatore che si è protetto in realtà vedendo sembra che Ocoli abbia il braccio un po' troppo largo quindi è probabile che ci sia un calcio di rigore per la Roma che andrebbe così Mancini è andato da Ocoli a abbracciarlo a dire dai dillo che l'hai presa così Mancini è incredibile ragazzi Mancini che dice io che lo farei io lo farei esatto ma anche tu io lo farei dicevo per concludere il discorso del paradosso campionato Champions è che Inzaghi nei primi due anni ha fatto benissimo di più nelle coppe Coppa Italia Supercoppe e anche Champions perché l'Inter le partite che ha fatto con Liverpool con Real Madrid con il Porto con il Barcellona prima di Inzaghi non le faceva mai usciva al primo turno mentre in campionato si diceva non c'è quella ferocia di rimanere sempre sul pezzo anche con le piccole la continuità la fase difensiva le distrazioni oggi ha messo a posto questo mentre io Inter atletico lo so che l'Inter avrà l'approccio giusto perché l'ha sempre fatto in questi anni poi l'Atletico è una squadra rognosissima forte perché io mi riferivo alla partita con la Salernitana sono rimasto meravigliato perché ho visto nei primi dieci minuti sette tiri in porta non calano la tensione più mai calcio di rigore assegnato dall'arbitro tocco di Ocoli il dubbio era se il pallone avesse preso prima la parte della pancia e poi il braccio invece tocca prima il braccio e poi la pancia una sorta di carambola avesse toccato anche prima la pancia il braccio era troppo largo con la palla verizzata verso la porta potenzialmente 0-3 a Frosinone potenzialmente 0-3 a Frosinone non è un risultato scontato a Frosinone adesso deve segnarlo nel secondo tempo la Roma ha legittimato il vantaggio in maniera nel primo onestamente non c'era ragione perché si trovasse avanti vediamo se chiude la pratica con Paredes Paredes contro Turati chiaramente tutti devono restare fuori l'area di rigore ieri in Atalanta Sassuolo un calcio di rigore è stato ribattuto una volta da Pinamonti ma entrambe le volte parato da Carnesecchi occhio minuto 81 numero 16 come De Rossi va Paredes dal dischetto contro Turati il fischio lo spiazza Paredes 0-3 partita chiusa allo stirpe la Roma va a archiviare questa pratica e si porta da meno 4 dalla coppia al quarto posto Atalanta e Bologna eccola qua la classifica Roma 41 Atalanta e Bologna a 45 eh sì anche se appunto l'Atalanta ha una partita in meno quindi questo va va sottolineato 0-3 tutto facile quindi per la Roma impeccabile il rigore di Paredes che chiude la pratica in quel di Frosinone quindi allora per Franco per Matteo Alberto non lo so se lo vedi già chiuso questo campionato l'Inter dici? sì ma perché c'è la motivazione ma io ma io ho fatto il suo modo ma lo sanno anche loro non lo vogliono dire ma lo sanno lì dove ho fatto il problema io mi ricordo che a fine gennaio di due anni fa qua facemmo un sondaggio tutti l'Inter ha già vinto vediamo chi arriva secondo ma era un'altra situazione Michi dai oggetti cosa c'entra cosa c'entra quello che è sulla base era la stessa situazione ma cosa stai dicendo? era in fuga era in fuga a più 9 potenzialmente a più 12 a febbraio non mi sembra a me sembrava potenzialmente a più 7 con il derby potenzialmente a più 7 bravo potenzialmente a più 7 con il derby tanto c'è Bologna hai perso il derby c'è a meno 1 che fuga sono due robe completamente in derby ma l'amico era a fine gennaio no il derby era il 5 di febbraio posso fare mia la dichiarazione di Michele prima sul 4 post notizia dell'ultima ora è arrivata l'ufficiale del Milan a Monza Ciuqueze titolare giocano Ciuqueze Okafor Lotovcic e Jovic resta fuori Leao abbiamo deciso di lasciare la segmento e Ozyman non se la sente di giocare arriva anche lui dalla Coppa d'Africa in campo questa è una notizia un po' sorpresa Prodivia Ciuqueze titolare abbiamo deciso di questa sera lasciare la Juve seconda in classifica perfetto ma io mi ci ho fatto 5 gol e in pari di Ciuqueze infatti ho capito ma hai capito con chi giochi questa sera dai non incominciamo con il Monza giochi sono il derby del cuore stasera parla quello che di Ciuqueze